La Camera del Lavoro interviene con toni duri in contraddizione a quanto dichiarato in precedenza dal sindaco di Modica Abate relativamente a pagamenti degli stipendi pregressi ai dipendenti comunali. Oggi in nuovo verso la prefettura per stabilire le linee guida in materia di sicurezza pubblica. In particolare sono state stabilite misure antiterrorismo in previsione dei maggiori eventi in programma in provincia per le prossime settimane. Iniziati oggi i campionamenti dell'acqua del mare Ibleo, a comunicarlo il direttore dei laboratori di salute pubblica, la Vima. I prelievi continueranno domani e i campioni saranno soggetti a controlli per verificarne la salubrità. Arrivano nuove segnalazioni relative ad avvistamenti di ratti nella città di Modica. L'allarme cresce in proporzione anche agli episodi sempre più frequenti di cassonetti stracolmi a ridosso del fine settimana. Buonasera e bentrovati a una nuova edizione di MTG. Il sindaco di Modica oggi non ha pagato i dipendenti del comune. Una dura nota della Camera del Lavoro racconta di questi mesi di arretrati dell'amministrazione Abate. Tra i dati più allarmanti la mancata correspensione di 25 mensilità alle cooperative. Insomma, il sindaco Abate c'è o ci fa? Con questa frase in sintesi si racchiude il pensiero della Camera del Lavoro di Modica in riferimento alle dichiarazioni rilasciate da Abate in merito agli accordi in prefettura sul pagamento degli stipendi ai dipendenti del comune e non solo. Una nota al vetriolo non per i toni o per gli attacchi all'amministrazione quanto per un report dettagliato su tutte le inadempienze del comune di Modica nei confronti dei lavoratori, alcuni dei quali devono ancora percepire dalle 10 alle 15 mensilità pregresse. Oggi si sarebbe dovuta tenere la protesta dei dipendenti che tuttavia non è stata soppressa. La CGL è chiara, Abate aveva detto che oggi avrebbe erogato una mensilità ai dipendenti del comune di Modica, ma così non è stato. Una bugia quella di Abate che gli costa cara. La CGL infatti ha mal digerito le dichiarazioni e rassicurazioni del sindaco pertanto ha elencato tutto ciò che non è stato fatto sottolineando come vi è il dubbio che Abate non capisca la Camera del Lavoro scrive Ai dipendenti comunali deve ancora pagare gli stipendi dei mesi di giugno, luglio e a giorni quello di agosto oltre a dover ancora liquidare agli stessi il fondo accessorio 2015 700 mila euro oltre gli oneri riflessi e il fondo accessorio 2016 altri 700 mila euro oltre gli oneri riflessi Ai dipendenti della SPM Abate deve ancora pagare 4 mesi arretrati cioè gli stipendi di maggio, giugno, luglio e la 14esima mensilità per non dimenticare che a giorni matureranno anche lo stipendio di agosto Ancora si legge nella nota a firma della Camera del Lavoro i dipendenti delle cooperative sociali devono ricevere dai loro datori di lavoro dalle 15 a 25 mensilità a causa del fatto che il comune di Modica non paga le fatture alle cooperative affidatarie dei servizi Dopo la replica piccata quindi del sindaco Abate dei giorni scorsi adesso i sindacati mettono in evidenza come il sindaco non rispetti gli accordi che sottoscrive e viene naturale pensare, si legge ancora nella nota che questo se lo chiedono i cittadini, i dipendenti, gli operatori ecologici quelli delle cooperative sociali che da mesi aspettano di ricevere le spettanze per le quali il sindaco si è impegnato con accordi scritti e cronoprogrammi Eppure quando lo si richiama sul mancato rispetto degli accordi si legge ancora nella nota nel caso in specie di quello sottoscritto il 27 luglio in prefettura per la liquidazione di alcuni mandati all'Igm egli sembra costantemente caduto dalle nuvole meravigliato e sorpreso di essere tacciato di mancato rispetto degli accordi siglati in prefettura con tanto di impegno e garanzia Il dubbio viene, conclude la nota a firma della Camera del Lavoro o non sa far di conto e pertanto candidamente dichiara di non capire la nota di richiamo dei sindacati oppure, cosa ben più grave, la leggerezza con la quale sigla accordi e poi non li rispetta manifestando per di più disappunto e sorpresa per i comunicati sindacali è il sintomo di un non condivisibile modo di operare per mezzo del quale tenta furbescamente di nascondere la verità allo scopo di prendere tempo, conclude la nota a firma della Camera del Lavoro di Modica La commissione al bilancio presieduta dal consigliere Luigi Giarratana ha approvato il bilancio preventivo 2017 La seduta di oggi segue il parere positivo rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti che nelle scorse settimane avevano esaminato l'atto prossimo step la conferenza dei capi gruppo fissata per il 23 agosto per stabilire la data della seduta del Consiglio Comunale che porterà a termine l'iter di approvazione dello strumento finanziario approvato anche in giunta e inoltre il rendiconto finanziario 2016 già all'attenzione dei Revisori dei Conti Hanno riaperto parzialmente oggi i cantieri della Siracusa Gela anche nel tratto Rosolini-Modica lo aveva anticipato l'assessore regionale alle infrastrutture Luigi Bosco nel corso dell'incontro sul tema avvenuto il 12 agosto scorso a Pozzallo Resta però aperta la questione sull'entità di mano d'opera che verrà coinvolta dal momento appunto del via dei cantieri dopo lo stop di Ferragosso si saprà di più dal prossimo vertice fissato per fine mese a Catania al momento sono solo 15 gli impiegati reintegrati Riaperti oggi parzialmente i cantieri della Siracusa Gela anche nel tratto Rosolini-Modica come aveva anticipato l'assessore regionale alle infrastrutture Luigi Bosco presente all'incontro sul tema tenutosi a Pozzallo lo scorso 12 agosto Resta però aperta la questione sull'entità di mano d'opera che verrà coinvolta dal momento del via dei cantieri dopo lo stop di Ferragosto al momento sono stati impiegati 15 dei 150 lavoratori della ditta appaltatrice rimasti senza un'occupazione e per i quali non si ha ancora certezza di riassunzioni come ci conferma il segretario generale della UIL di Ragusa Giorgio Bagnera da noi contattato telefonicamente sarà infatti la ripresa dei lavori a determinare gradualmente sulla base della tipologia di intervento di cantiere la maestranza che verrà assorbita maggiori aggiornamenti inoltre deriveranno dall'incontro fissato per giorno 28 agosto a Catania non è quindi possibile al momento prevedere in che proporzioni verranno coinvolte e riassorbite le maestranze che avevano subito dal 17 luglio scorso i licenziamenti per i lavoratori c'è un impegno non ancora formalizzato ma praticamente scontato di revocare i licenziamenti in effetti non di ciò si trattava ma di un collocamento in ferie dei lavoratori in tutto 30 e di sospendere le procedure per gli altri 120 lavoratori a tempo determinato intanto come detto durante la conferenza di servizio del 12 agosto scorso sulla questione economica qualcosa dovrebbe muoversi in arrivo 12 milioni di euro dall'ANAS nelle casse del consorzio e 4 milioni sono poi in fase di contabilizzazione l'incontro in programma per il 28 agosto a Catania vedrà coinvolti gli stessi attori del vertice precedente tenuto sia a Pozzallo l'assessore regionale alle infrastrutture l'ingegner Luigi Bosco la deputazione regionale nazionale eblea che aveva richiesto l'incontro di giorno 12 agosto alla presenza dell'assessore Bosco come anche i sindacati e rappresentanti Cosige, ANAS e CAS Sequestrato dagli agenti del commissariato di Vittoria mezzo chilo di marijuana due algerini lo stupefacente era pronto per essere suddiviso in dosi una volta emesso nel mercato avrebbe fruttato più di 5 mila euro i due pusher presenti irregolarmente sul territorio sono stati arrestati e condotti al carcere di Ragusa E' stato grazie al fiuto di Dream pastore tedesco di tre anni che gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti ad individuare due spacciatori in contrada al cerito a Vittoria due algerini senza permesso di soggiorno che avevano con sé 500 grammi di marijuana pronta per essere ripartite in dosi e immessa nel mercato illegale estivo degli stupefacenti sono stati arrestati L'operazione antidroga è stata condotta nella serata di sabato scorso dai poliziotti del commissariato locale della squadra mobile con l'ausilio delle unità cinofile provenienti da Palermo L'attività di polizia giudiziaria si è svolta in contrada al cerito zona dell'Ipparino tenuta da diversi giorni sotto stretto controllo perché ritenuta il mercato dello spaccio la droga individuata dal pastore tedesco guidato dal suo conduttore era nascosta sotto un filare di alberi interrata all'interno di un sacchetto a poca distanza è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione utilizzato per la pesatura dello stupefacente addosso ai due algerini sono stati trovati 840 euro ritenuti provento della vendita illecita le manette sono scattate per il Sam Allali algerino di 25 anni per il 28enne Abderrahman farà entrambi già destinatari di ordine di lasciare il territorio nazionale emesso dal questore di Cagliari i due sono stati identificati dalla polizia scientifica per loro l'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana considerata la gravità del reato la quantità di stupefacente infatti consente di ottenere più di mille dosi che possono essere vendute sul mercato ricavandone oltre 5.000 euro il sostituto procuratore Gaetano Scollo ne ha disposto la reclusione nel carcere di Contrada pendente a Ragusa nel contempo l'ufficio immigrazione della questura di Ragusa ha avviato il procedimento amministrativo finalizzato all'espulsione dall'Italia dei due immigrati nuovo vertice oggi in prefettura relativo all'ordine e la sicurezza pubblica decise misure antiterrorismo in occasione di tre eventi in programma nelle prossime settimane la festa del patrono San Giovanni a Ragusa la cronoscalata a Chiara Montegulfi e la festa di Recucco a Scoglitti nell'agenda delle misure di prevenzione di possibili attacchi terroristici entrano tre eventi di grande richiamo in programma nel Ragusano in questo scorcio finale dell'estate feste laiche e religiose e una gara sportiva hanno richiamato l'attenzione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che ha segnato con Allert Rosso la festa del patrono di San Giovanni a Ragusa in programma dal 27 al 29 agosto la gara automobilistica Montiblei storica cronoscalata che richiama un grande pubblico sui tornanti di Chiara Montegulfi il 27 agosto e il carnevale estivo a Scoglitti il 26 agosto la manifestazione storica del Recucco che ha animato l'estate dei vittoriesi negli anni 80 e quest'anno riportata a nuovi fasti la prima e più efficace misura sulla quale si concentrano gli organi di governo e le forze dell'ordine e la task force antiterrorismo sono quelle di dotare le aree che saranno affollate dal pubblico di misure antisfondamento capaci di impedire l'aggressione con automezzi pesanti che negli ultimi tempi hanno ammietuto tante vittime nelle località europee massima l'attenzione del prefetto Maria Carmela Librizi affinché queste manifestazioni si svolgano in sicurezza e serenità per questo motivo dopo l'incontro di sabato scorso il prefetto Librizi ha nuovamente incontrato i vertici delle forze dell'ordine nonché i tre sindaci Federico Piccitto, Sebastiano Gurrieri e Giovanni Moscato per la festa di San Giovanni ci si concentra sul centro storico di Ragusa Superiore e lungo il percorso della processione oltre alle barriere composte da blocchi di cemento e da New Jersey e mezzi di polizia collocati trasversalmente nei luoghi di maggiore rischio presidi saranno posti in piazza San Giovanni per disciplinare l'accesso e il deflusso dalla cattedrale a Cheramonte grande attenzione lungo il percorso con misure di sicurezza che già in passato hanno dato buon esito stessi provvedimenti sono previsti per la manifestazione del recucco a Scuglitti Trattandosi di un evento itinerante in piazza ci saranno presidi con sbarramento composti da auto così come nella zona dove si terrà il falò conclusivo previsto anche un piano di viabilità con transenne personale vie di fuga e bus navetta che collegherà il parcheggio allo stadio della frazione balneare Il weekend di Ferragosto appena trascorso non ha fatto registrare episodi di emergenza o di allarme le forze dell'ordine hanno sottolineato come contrariamente alle aspettative sia stato un weekend sereno Il weekend di Ferragosto in realtà è stato un weekend sereno non si sono registrate fortunatamente emergenze se non circoscritte episodi di poco conto a sostenerlo tutte le forze dell'ordine del territorio ragusano che tracciano un bilancio positivo dei controlli effettuati su tutto il territorio ebleo Il weekend più impegnativo della calda stagione ha fatto invece registrare fortunatamente un netto calo rispetto al trend degli anni passati A parte qualche episodio di micro criminalità tutto è andato bene La Polstrada non possiede ancora i dati ufficiali per fare un confronto con il 2016 ma a sensazione si intuisce che il calo c'è stato Merito della concertazione dei diktat partiti dalla prefettura di Ragusa La prefetta Maria Carmela Librizi lo aveva più volte anticipato che si sarebbe registrato un potenziamento di controlli anche in riferimento agli enti pubblici visti i fatti di Torino Carabinieri, Polizia di Stato, Municipale, Polstrada, Polizia Provinciale, Vigili del Fuoco rassicurano su un'attività di ordinaria amministrazione che ha lasciato sorpresi e soddisfatti Maggiore timore era il traffico e i sinistri che si sarebbero potuti registrare vinta l'alta congestione del traffico dato che, lo ribadiamo, non si è registrato facendo sperare nel futuro Ed è stato arrestato dai carabinieri mentre si trovava alla guida del proprio motorino senza patente titolo che non aveva mai conseguito Gaetano Velardita 22 anni, pregiudicato, sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Acate è stato fermato a un posto di blocco nel tardo pomeriggio di ieri Il giovane, dopo essere stato condotto nella caserma di Via Galilei per le formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari Accertamenti da parte degli inquirenti sono in corso per capire le ragioni per le quali il pregiudicato non si trovava presso il proprio domicilio Scatta una denuncia da parte della Polizia Provinciale nei confronti del cacciatore di 77 anni sul versante Ipparino aveva infatti installato, violando la legge, delle reti per catturare dei conigli Quella zona del territorio ebleo indicata per la caccia al coniglio come riferiscono dalla Polizia Provinciale i nostri uomini erano proprio sul posto al fine di prevenire illeciti e così è stato Il deferimento è scattato per furto aggravato ai danni dello Stato sul posto per l'operazione anche i carabinieri della Compagnia di Vittoria E sono iniziati oggi i campionamenti dell'acqua del mare ebleo a comunicarlo il direttore del laboratorio di salute pubblica Pinuccio Lavima La prima acqua del mare prelevata questa mattina dai tecnici dell'ASP 7 di Ragusa diretti dal direttore del laboratorio di sanità pubblica Pinuccio Lavima è stata a confine tra il territorio ragusano e quello siracusano in zona secche di Circe vicino Cirica l'ultimo invece a Marina di Modica Lo avevamo preannunciato nelle precedenti edizioni del telegiornale Oggi si sarebbero infatti tenuti i campionamenti su tutto il litorale dell'acqua che bagna le nostre coste e così è stato La stessa acqua su cui si teme si siano compiuti illeciti e che gli stessi abbiano portato ad inquinamento Un inquinamento che si palesa a detta dei bagnanti, lo sottolineiamo ogni giorno con la presenza di chiazze oleose e di schiuma sia in spiaggia che sugli scogli Il caso, come ogni anno, è stato denunciato dai bagnanti di Marina di Modica che hanno sottolineato come l'acqua di Contrada Ciarciolo sia spesso teatro di questi episodi Si chiede chiarezza e più presenza delle istituzioni Lavima ha sottolineato come, dalle ultime analisi, il loro possesso non ci siano dati negativi o comunque preoccupanti Ovviamente è bene sottolineare però che si tratta di dati del mese scorso e quindi non totalmente aggiornati Domani continueranno i prelievi su tutta la restante parte del litorale Si partirà da San Pieri per poi proseguire alla volta del versante Ipparino L'acqua prelevata oggi e quella di domani saranno subito oggetto di studio nei laboratori dell'ASP per fornire con certezza i parametri di salubrità E sull'avvistamento di roditori nella città di Modica arrivano nuove segnalazioni L'allarme cresce in proporzione anche agli episodi sempre più frequenti di cassonetti stracolmi di rifiuti a ridosso del fine settimana La segnalazione del gruppo di turisti Umbri trovatisi dinnanzi ad un ratto in piazza Santa Teresa a Modica Alta ha aperto a nuove segnalazioni Alcuni utenti di Facebook hanno infatti scelto di unirsi alla segnalazione dei turisti denunciando come, in riferimento ai ratti, ci siano più episodi Lo hanno fatto scrivendo dei commenti al servizio pubblicato da noi sulla nostra pagina ufficiale Video Mediterraneo su Facebook Suona dunque adesso il campanello d'allarme in riferimento alla presenza di roditori in giro per la città di Modica L'allarme cresce per una crescita esponenziale soprattutto nel weekend di cassonetti stracolmi in riferimento ai rifiuti Come è noto, un'ordinanza ha imposto alle amministrazioni che conferivano a Motta Santa Anastasia di diminuire del 30% il conferimento dei rifiuti cosa che, di fatto, è stata applicata anche dal comune di Modica Ora, gli episodi dei cassonetti pienissimi collegati a queste segnalazioni di presenza di ratti in giro per Marina di Modica per la parte alta della città e per il quartiere Sorda quindi, in sostanza, in giro per tutta Modica fanno temere che la situazione possa degenerare Contattato da noi telefonicamente il sindaco di Modica, Ignazio Abbate non ha potuto rispondere in quanto impegnato in un vertice ma sull'argomento i cittadini aspettano risposte La domanda è la derattizzazione di cui si sente tanto parlare e che, stando a quanto sostiene il comune, viene fatta come viene curata? O meglio, viene realmente eseguita a regola d'arte? I cittadini chiedono dunque ad Abbate di intervenire, di porre in essere un'azione forte, incisiva affinché i ratti non costituiscano in futuro per Modica un problema o meglio, un nuovo problema E' Filomena Bianco il nuovo dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Ragusa che va a sostituire Giovanna Criscione andata in pensione il 15 agosto scorso Filomena Bianco, dirigente tecnico con unzioni ispettive presso l'ufficio scolastico regionale ha già incontrato il personale nei giorni scorsi E voltiamo pagina perché ieri a Noto è avvenuta la vestizione dei 5 nuovi portatori dell'Associazione dei Fedeli Portatori di San Corrado I 5 ispiranti portatori hanno concluso il proprio percorso formativo e spirituale durato un anno e sono stati accolti in associazione Fervono già i preparativi per la festa in onore a San Corrado che, come da tradizione, verrà celebrata l'ultima domenica del mese di agosto e verrà trasmessa in diretta dalle telecamere di video mediterraneo il 27 agosto Fervono già i preparativi per la festa in onore a San Corrado patrono di Noto che, come da tradizione, verrà celebrata l'ultima domenica del mese di agosto Ieri è avvenuta la vestizione dei nuovi portatori che vanno ad aggiungersi agli esistenti 115 membri dell'Associazione dei Fedeli Portatori di San Corrado 5 aspiranti portatori d'età compresa tra 25 e 69 anni e che rappresentano nuova linfa per l'associazione così come ha dichiarato il commissario straordinario dell'Associazione dei Portatori di Lorenzo Hanno concluso il proprio percorso formativo e spirituale di un anno e sono stati accolti in associazione Ogni anno gli aspiranti portatori vengono ufficialmente accolti e presentati alla comunità della diocesi con il rito della vestizione Commozione, fede e partecipazione hanno fatto da cornice alla cerimonia di vestizione è avvenuta ieri nel corso delle celebrazioni della Santa Messa celebrata da Monsignor Angelo Giordanella Vicario Generale e Rettore della Cattedrale di Noto nonché assistente spirituale dell'Associazione La vestizione è avvenuta sotto l'urna di San Corrado in esposizione da tre settimane Monsignor Giordanella ha benedetto i medaglioni e le divise destinate ai nuovi portatori e con l'aiuto del commissario Di Lorenzo sono stati vestiti dinanzi ai fedeli entrando ufficialmente a far parte dell'associazione che da sempre rappresenta un forte attaccamento alle radici fondanti e alla tradizione di fede e devozione Ai portatori spetta il trasporto della vara con l'arche argente dal peso di 700 chili nelle processioni patronali scortata dai grandi cili e di rendere onore e lode alle virtù eroiche sempre attuali del venerato Corrado Santo Pellegrino ed Eremita 15 giorni fa ad esempio si sono fatti carico della raccolta alimentare che ha registrato due tonnellate di prodotti alimentari raccolti e destinati ai meno abbienti Inoltre fra gli appuntamenti che precedono le celebrazioni di domenica 27 agosto i portatori giorno 24 andranno in pellegrinaggio presso la grotta dei Pizzoni quella scelta per abitarvi dal Cavaliere Piacentino Corrado Confalonieri quando giunse a Noto e che secondo la leggenda allargò a spallate perché piccola La festa di San Corrado sarà trasmessa in diretta dalle telecamere di video mediterraneo domenica 27 agosto dalle 18 alle 20 e 30 e dalle 22 alla fine delle celebrazioni Conducono Salvo La Rosa e Alessandra Brafa Ora ci fermiamo per una pausa pubblicitaria A tra poco Bentrovati in studio Ora ci spostiamo a Pozzallo con un servizio del nostro ufficio commerciale sui numeri della Sagra del Pesce E' calato il sipario alla cinquantesima edizione della Sagra del Pesce di Pozzallo la manifestazione che rappresenta una delle più antiche e rinomate sagre siciliane attraverso cui si promuove il pescato, i prodotti della gastronomia locale ma anche spettacoli musicali e artisti di strada hanno caratterizzato la nove giorni di manifestazione Piazza delle Membranze Location anche quest'anno ideale per una manifestazione che ha catalizzato l'attenzione di migliaia di visitatori e turisti provenienti da ogni parte d'Italia Dov'è? Roma, ci siamo fermati perché abbiamo visto che c'era la Sagra del Pesce però abbiamo avuto poi una bellissima sorpresa, una bellissima cittadina facciamo amicizia con gli altri in fila, io adoro le file perché faccio amicizia E' molto buono, anche il posto bellissimo e il cibo anche, molto buono Abbastanza bene, la pasta è un po' ardente però a me non dispiace Uno staff di cuochi in maniera spettacolare ha cucinato il pesce che è fritto è stato trasferito nei vassoi e successivamente decine di addetti si sono occupati di servire i numerosi visitatori della Sagra Il tutto contornato dalla selezione musicale delle più spettacolari orchestre siciliane dalle voci dei cantanti, dal profumo invitante del fritto misto e da quello del mare che assieme ai coloratissimi stand hanno reso l'atmosfera unica e suggestiva dal calar del sole fino a tardanotte o fino a quando l'ultimo pesce, come tradizione vuole, non ha smesso di friggere Quest'anno abbiamo avuto molti visitatori, frutto del lavoro sinergico fatto negli anni precedenti che ha portato appunto a questa notevole affluenza di pubblico A punta di forza di questa manifestazione, quest'anno sono stati prodotti di qualità utilizzati all'interno del reparto gastronomico abbiamo inserito due chef di caratura provinciale e quindi tutti i turisti e tutti i residenti di Pozzallo sono tutti contenti Quest'anno devo dire grazie anche alla GG Entertainment davvero che ha supportato l'amministrazione comunale perché davvero abbiamo organizzato questi nove giorni a costo zero per l'ente quindi a mio avviso molto importante in cui la GG Entertainment e la persona di Giovanni Gambuzza davvero ci ha dato un'ottima mano a organizzare questi nove giorni non solo nell'archire alla gastronomia e quindi a servire il pesce fresco presso i peschereggi di Portovalo Fra i gruppi folcloristici anche i calanti dal Salento direttamente a Pozzallo per far ballare il pubblico delle grandi occasioni ed è tutto per questa edizione grazie per averci seguito vi auguro buona serata